Sta per finire il 2011 che per la città di Napoli è stato un anno comunque di grandi cambiamenti, le elezioni amministrative hanno segnato una forte svolta, una grande voglia di cambiamento in città, tra le donne e gli uomini, tra i più giovani, una ripresa del turismo, la fine dell'emergenza di fiuti. Io mi auguro che il 2012 sia ancora migliore, sia soprattutto un anno di serenità, di minori disuguaglianze e soprattutto l'anno del lavoro, l'anno in cui riusciamo a invertire il trend di una disoccupazione che cresce e invece migliorare il tasso di occupazione nella nostra città. Mi aspetto anche un anno di grande partecipazione democratica nella nostra città. Io immagino che da Napoli possa partire, o che sia già partita, la riscossa del Mezzogiorno, della Napoli capitale del Mediterraneo, di una Napoli centrale per l'unità del Paese e per lo sviluppo. Napoli ha tutte le risorse, le energie, ha bisogno che tutti credano in questo progetto in difesa dei beni comuni, con una maggiore unità di intenti, perché è un momento storico fondamentale. Io credo che ci sono tutte le condizioni per uscirne ed uscirne bene. Napoli ha tutte le potenzialità per invertire situazioni difficili. Penso allo sviluppo, penso al lavoro, penso al turismo, alla cultura, alla sicurezza, alla partecipazione democratica, alle sfide della mobilità, della pedonalizzazione, della sicurezza fatta dai cittadini e non dai carri armati. Insomma è una città che sta dando prova di grande democrazia e di un modo diverso di fare politica. Auguriamoci un 2012 di serenità, ma anche di lotta, che solo attraverso la lotta si possono aggiungere grandi risultati e anche un 2012 di sogni, perché i sogni molto spesso si avverano, soprattutto se c'è determinazione, volontà e coraggio. Buon 2012 a tutti.